Adesso darei la parola a padre Andrea Dall'Asta, direttore del San Fedele di Milano e faccio un riassunto di queste parole che sono uscite, esempio, rispetto, responsabilità, fiducia, regole, equità, sobrietà, giovani e speranza, ricucire, progetto, visione, vincere la paura e tante cose che riconducono comunque a Papa Francesco, che è stato accennato prima ma che comunque rappresenta un elemento sia di modernità e sia anche di senso, diciamo così, comune e di bene comune. Grazie. Vorrei tornare all'origine e in modo particolare a Lorenzetti, alla maestà di Simone Martini in cui il bambino tiene uno scritto sopra il quale viene letto Amate la giustizia. Amate la giustizia, ma quale giustizia? Perché lì il problema. Lorenzetti pensava alla giustizia di quel bambino. Allora, avevo pensato di leggere, partendo proprio dal Vangelo di Matteo, non tanto una riflessione sulla giustizia quanto piuttosto alcuni spunti che potrebbero aiutarci a comprendere il senso del bene comune, ma anche della giustizia. E' la parabola dei lavoratori della vigna. Matteo scrive Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere giornata a lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con loro, per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino ne vide altri che stavano sulla piazza disoccupati e disse loro Andate anche a voi nella mia vigna. Quello che giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque ne vide altri che se ne stavano là e disse loro Perché ve ne state qui tutto il giorno oziosi? Gli risposero Perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro andate anche voi nella vigna. Quando fu sera il padrone della vigna disse al suo fattore Chiama gli operai e dà. Loro la paga. Incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi pensavano che avrebbero ricevuto di più ma anch'essi ricevettero un denaro per ciascuno. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato Il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone rispondendo a uno di loro disse Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse convenuto con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle cose mie e quello che voglio? Oppure tu sei invidioso? Perché io sono buono. Così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. Qualche brevissima riflessione. Certamente siamo ben lontani dalla logica dei Lorenzetti in cui abbiamo una visione di insieme e una visione armonica come un organismo in cui tutto è il suo posto, tutta la sua visibilità è un organismo ben gerarchizzato. Il Vangelo ragiona secondo una logica ben diversa. E leggendo la parabola ci chiediamo immediatamente ma chi è questo padrone? Si parla infatti di un padrone che non tiene conto del lavoro effettivo di ciascuno e non fa differenza tra la paga del primo e quello dell'ultimo. Di che tipo di giustizia si tratta? Perché non ragiona in termini di merito come dovrebbe fare? Ci interroghiamo subito. Applica forse la logica dell'ingiustizia? Qual è la ragione? Allora, se pensiamo nella società del tempo in cui il lavoratore portava a casa il guadagno che permetteva alla sua famiglia di mangiare per quel giorno si può capire in maniera molto chiara la preoccupazione di questo strano padrone. Vale a dire, il padrone gli dona quella paga che permette a lui, a sua moglie e ai suoi figli di poter sopravvivere. Forse che il denaro di un'ora sola di lavoro avrebbe permesso a tutta la sua famiglia di vivere, no. Questa ingiustizia è finalizzata al fatto che l'altro viva. Se avesse dato la ricompensa in termini di giusta retribuzione come avrebbe potuto far fronte alle necessità familiari? La retribuzione di questo strano padrone eccede ogni merito. Potremmo dire che nella logica di Gesù non ci può essere un bene comune senza la preoccupazione nei confronti del più fragile, del più debole. Ed è un leitmotiv di tutte le scritture ebraiche in cui viene continuamente ripetuto di soccorrere a Israele l'orfano, la vedova, lo straniero, il levita. Vale a dire, tutti coloro che nella società non hanno la possibilità di sostentarsi. Vale a dire, di tutti coloro che non hanno la possibilità di sopravvivere, di vivere, perché non hanno alcuna difesa. Nelle parole di Gesù è altissima la preoccupazione etica. Preoccupazione etica che mette al primo posto il punto di vista del più debole, dell'escluso, dell'emarginato, di colui che è più vulnerabile. In questo senso non è un padrone ingiusto, ma un padrone buono. Due rapidissime considerazioni per terminare. La necessità dell'etica per pensare il bene comune. E direi, in una visione in cui occorre considerare che etica personale ed etica sociale non possono essere separate. e siamo ben consapevoli del degrado che oggi affligge la politica, la finanza, l'economia, l'amministratore, deve essere un uomo retto. Se non c'è rettitudine, non ci può essere considerazione per la dignità della persona e il venir meno nel senso della dignità della persona è una delle cause drammatiche e sociali più forti di oggi. Secondo, primo, necessità dell'etica. Secondo, spirito di solidarietà responsabile dei cittadini. Il padrone dice, prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche quest'ultimo quanto a te. Oppure, tu sei invidioso, perché io sono buono. In una società non può mai venire meno il senso di una solidarietà responsabile. Ed è interessante come il Vangelo ponga l'invidia come principio di persone fortissimo tra le persone e quando si fanno valere solo i giusti diritti senza considerare che alla base di una scelta ci può essere una questione di vita o di morte, immediatamente c'è guerra, scontro, violenza. Secondo questo sguardo di Gesù è che tutti noi abbiamo, amiamo la vita nel riconoscimento della dignità della persona e che occorre assicurare la vita a partire dalle condizioni in cui ci si trova, anche da quelle più fallimentarie, sfortunate e disagiate. Questo, mettere il punto di vista prioritario, quello del più debole, è forse l'inizio per pensare il bene comune. Grazie. Grazie. Invito l'assessore Adalucini. Grazie. 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 Grazie.